Attenzione, William Shakespeare, Romeo e Giulietta con la compagnia di Nessun Dorma con Giulietta, Paola Cortellesi Romeo, Libero De Rienzo Lavalia, Rosana Cancellieri Emile Ruoli, Fra Lorenzo, Massimiliano Bruno Prego, Romeo e Giulietta Ciao Ciao Sei carina, ti chiami? Giulietta Figo, come l'auto? Eh? No, niente, è una cosa mia E tu? Romeo Forte, come la marca di auto? Eh? No, niente, è una cosa mia De cognome? Capuleti Aio Eh? No, no, niente, è una cosa mia E tu? Io, Montecchi Aia Problemi? No, niente, è una cosa mia Ti amo Idem Beh, io vado Ciao Ciao Novità? Mi piace uno Uh, e chi? Un Montecchi Parlate dunque No, niente, è una cosa mia Insomma, ti piace questo? Esatto E il conte di Parigi? Che me frega, personaggio secondario Propongo uno stratagemma Tipo? Veleno Cioè? Lo prendi, sembra che muori, ma non muori E Romeo? Avvertiamo, lui arriva e fuggite Oh, lo avverti tu? Lascia fare Mmm, Amarino Oh no, non ci posso credere Voglio morire Oh, Amarino Muoio Non ci posso credere Voglio morire Mi sono dimenticato di avvertire Oh Oh no, perché? Niente, è una cosa mia No Incavibile Roma e Giulietta in un minuto e dieci secondi Ringraziamo la compagnia di Nessun Dorma Rosanna Cancellieri, le ringraziamo, ci vediamo più tardi Libero di Rienzo, su tutti gli schermi Bravo Con andate e ritorno Bravo, bravo E noi proseguiamo il programma Attenzione, vai Melanie Grazie